Alcuna mi ha dato ragazzi belli del vostro ciccio come l'89 Siamo su Frecciarossa classe business Quasi a Milano Quasi a Milano Mancano 20 minuti esattamente No esattamente mancano 16 minuti Siamo a Milano Vabbè praticamente siamo quasi a Milano Magari ho permuto un tasto Io l'S4 siamo grandi amici Come vedete là c'è Ambrogio Anche detto Berillo Anche detto Aurora E con noi c'è il nostro caro amico Dexter Brofrost E quindi niente siamo Ciao a tutti Salve E quindi siamo su Niente fra un po' siamo a Milano centrale Vi faremo vedere Milano centrale E ho registrato già 5 giga 6 giga Adesso vado avanti così non è possibile mai E quindi niente ci vediamo dopo Speriamo che siete in tanti vi farò vedere Bella Allora siamo arrivati a Milano centrale Voi non lo vedrete mai Ma là davanti Va bene dai Perché c'è uno delle Iene Come si chiama quello delle Iene Non mi ricordo mai Comunque abbiamo viaggiato in carrozza Con uno delle Iene E quello brizzolato Che ha capelli bianchi Non lo raggiungerò mai Non fa niente Però ci abbiamo cacciato E' stato bellissimo Salve Ciao Anche lui sta facendo il video E quindi salve Siamo già dal Milano centrale Adesso ci dobbiamo Sì perché c'è tanto Ciao Ciao Salve come va Salve come va Tiago rollo Come stai Salve Salve Dexter Niente Dizio che si mangia oggi Tutto Ma stiamo al non stop Stiamo al non stop Oggi siamo lezieri Mangiamo tutto Esatto Un bel notesto Quindi adesso sono Mi vedete storto Sicuramente E' mezzogiorno e cinque E ancora ci hanno portato a mangiare E' stato che sto vigilando Mo' fammo di altro Succede un casino E salve a dopo Allora Stiamo nel bagno del cilindro Di mio fratello E c'è una cosa fighissima Nel bagno di maschi Mentre mio fratello fa la cacca Chiave lupata Andateci in due O bussure Bussure Ho detto bussure Risoluzione al più plesto Grazie Comunque è il bussure Che non capisco bene Giusto? Ambraggio Dica Parla più forte Dica Ah ok perfetto Ciao Essere concentrato Sì essere concentrato Sono un bimbo minchia Siamo finalmente a Fagaldo Siamo arrivati Al Zona Nintendo Siamo arrivati a zona Nintendo Dopo ci andiamo a vedere l'incontro Vabbè Lasciamo stare E va bene niente Siamo qua Fortunato che ancora Non posso stare Fortunato che ancora non posso stare Abitura E ora sono costretto Gira Vediamo Ciccio Adesso sono costretto Manca puttana No Grazie mille Ora ci giochi E rito Grazie mille Salute a canale Non ridere mai Grazie Ciao Mi piacere Facciamo una cosa Il matto mio lo sapete Lo facciamo a tre Insieme Però deve essere forte Vogliamo battere quelli di Roma Alcuno ha battato Alcuno ha battato Alcuno ha battato Due Tre Alcuno ha battato Bravissimi Sìis Se qua Vieni a tirare l'incontro E il tizio Eh Eh Se tuthomo mi segui Sì Andiamo all'incontro Si Sì Ehm... Tiago! Una cosa un'altra... Stiamo? Eh... Con due grandissimi fan eh Sei? Io lì Francesco Così, tieni così Tienegli sparato... Anzi no giramelo gira Ooooooh No mai non... Scusa ho dato un puglio incredibile Stiamo con tre fan Uno è invocato del cacchio Su sei? Francesco Certo Tu Aspetta non ti si vede Ecco fatto Ecco fatto Tu 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 Quindi siamo qua Salutate chi sta a casa Ciao ragazzi Ciao 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 È un onore È un onore No è tutto un onore mio Me l'hanno 5 euro a testa Grande Ok Sto registrando Stiamo andando via dalla feria Ciao Iacorollo Ciao Salve Salve Stiamo andando via dalla feria Mi dispiace Mi dispiace Un'altra bellissima giornata A Milano E niente È stato bellissimo Contro tanti fan Ciao fan Ciao Gizio E niente È stato stupendo Statemi bene Alla prossima Ciao Ok Siamo A stazione Stavati termini A stazione centrale Come vedete C'è sempre Iacorollo A mio fianco Ambrogio Iezar E notte E c'è una persona Bruttissima Guardate quant'è Bruttissima Una cosa incredibile E siamo stanchissimi Adesso loro si fanno Le ore Incredibili Complimentoni E noi stiamo aspettando La nostra freccia rossa Se vogliamo Lascio tutto A me spiace Ah una cosa Mi aiuti Mi aiuti a scartare Guardate ho fatto Una contrattazione Con un marocchino Praticamente E mi son comprato Questo No è giusto Mi basto 3 ore 15 euro Alla fine 30 euro 30 euro Se voglio Lascio il mio pc E gli acorollo Vabbè Vabbè Testamento E quindi Ci farò un let's play Su quello Mazzà La colla che si scolla Ma che te frega Ma è già tanto Che cammina Se cammina Se cammina Se si alza Stavo dicendo Prima che mi chiamassero Niente Siamo un po' stanchi Si vede anche dalla mia faccia E però c'ho l'elicottero Gli dammi l'elicottero Tutto tu No me lo stavo rubando tantissimo E c'è una Vabbè Non lo posso dire mai C'è Però c'è una cinesina C'è una cinesina Non lo so se si vede mai Vabbè Non si vede mai Quindi eccolo E' ritornato Con una torta incredibile Eccola qua E quindi Ragazzi E' stato fantastico Grazie mille Ci vediamo alle altre fiere Bella Bella Due Uno Non sei venuto Gli ottavi Ecco lei